3 settembre 2015, mi trovo a Pegognaghe in provincia di Mantua, nella bassa pianura mantovana. Questa è la posizione dove è stata fatta la registrazione sismica con il tromino. Qui verrà realizzato un ampliamento del cappannone e quindi per fare i calcoli strutturali occorre anche conoscere le caratteristiche sismiche del sottosuolo. Attraverso questa indagine riusciamo ad ottenere la frequenza di risonanza del sottosuolo in sito e anche la VS30 che è uno dei parametri sismici richiesti dal decreto del 14.1.2008.